ragazzi buongiorno ho guardato pure la finestra e sta nevicando qua torino però mi è venuta una voglia pazza di andare ad allenarmi e allora sapete che c'è ci vado proprio ad allenare in stile rocky bene adesso vi faccio vedere come va la giornata pollice in su è fantastico non c'è nessuno aria pulita e la città è tutta bianca bellissimo ciao corsetta finita ecco qua il malanno che arriva no speriamo di no fatemi toccare comunque mi è morto anche il cellulare mentre mi stavo allenando quindi ho potuto raccogliere solo piccoli momenti dell'allenamento però non importa l'idea era comunque farvi vedere che anche se nevica è bellissimo andare ad allenarsi sotto questo tempo sotto la neve la città era tranquillissima non c'era nessuno non c'erano persone non c'erano macchine l'aria era bella pulita scenario come avete visto bianchissimo e quindi fantastico l'allenamento è stato principalmente di corsa una quarantina di minuti di corsa e poi ho fatto una ventina di minuti di allenamento a corpo libero con esercizi semplicissimi le ice bar erano scivolose quindi trazione dip principalmente come come lavoro dai anche oggi mi sono allenato alla grande quindi continuerò così fino alla prossima settimana che poi me ne parto quindi ci vedremo da un posto dove farà più caldo ma vi terrò aggiornato su dove andrò dai ragazzi allenatevi pollicelli in su e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi che motivo ogni giorno a dare di più nei vostri allenamenti ciao ciao iscrivetevi al canale